Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. La volpe è un mammifero appartenente alla famiglia dei canide. Noto per la sua astuzia e agilità. Questo animale è caratterizzato da un corpo snello, orecchie appuntite, muso affilato e una coda lunga e folta. Le volpi sono onnivore, adattabili a diverse diete e ambienti, rendendole presenti in molti ecosistemi in tutto il mondo. Le volpi hanno una lunghezza che varia da 65 a 90 cm, con un peso compreso tra i 5 e i 15 chili. Possono vivere fino a 12 anni in natura. La loro pelliccia, che serve sia come camuffamento che come protezione dalle intemperie, può variare in colore da un rosso vivo a tonalità di grigio, marrone e persino nero, a seconda della specie e dell'habitat. Le volpi sono predatori opportunistiche che si nutrono di una vasta gamma di alimenti. La loro dieta include piccoli mammiferi come roditori e conigli, uccelli, insetti, frutta e vegetali. Sono anche noti per visitare le aree abitate dall'uomo in cerca di cibo, come rifiuti o cibo per animali domestici lasciato all'aperto. Naturali predatori delle volpi includono lupi, grandi felini e l'uomo, sia per la caccia che per la difesa del bestiame e delle colture. Le volpi sono estremamente adattabili e possono vivere in una varietà di ambienti, tra cui foreste, praterie, montagne, deserti e persino aree urbane. Sono più comunemente trovate in zone boschive, campi aperti e terreni agricoli. La loro capacità di adattarsi a diversi tipi di habitat le ha rese una delle specie di mammiferi selvatici più diffuse al mondo, presenti in tutto l'emisfero settentrionale dalla tundra artica alle zone desertiche. in tutto l'emisfero settentrionale dalla tundra artica alle zone desertiche. a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.